Ben ritrovati amici tifosi biancoscudati ragazzi buon pomeriggio stamane la decisione del consiglio di stato di estromettere di respingere il ricorso per l'ultimo salvataggio per salvare una stagione per salvare una vita calcistica per campo basso e termo che quindi vengono estromesse la serie C la Lega Pro 2022 2023 rimarrà a 60 squadre e quindi è anche segnato il futuro calcistico professionale di Michael Liguori che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Padova per quanto riguarda Michael Liguori il futuro dell'ex ormai campo basso vi aspetto numerosi nel prossimo video dedicato ai biancoscudati intanto in questi minuti in questi secondi sono collegato con la sede di Firenze per scoprire quale sarà il destino dei biancoscudati prima giornata lontano dallo stadio Euganeo quindi andiamo a scoprire quale sarà la prima trasferta di questa stagione 2022-2023 ragazzi la Padova giocherà il Silvio Piola di Vercelli contro la Pro Vercelli il prossimo 4 settembre non ci credo ragazzi subito derby contro la Vicenza di Francesco Baldini la seconda pazzesco trasferta il Moca Gatta contro la Juventus Under 23 alla terza giornata quarta giornata Padova contro Pro Patria quinta giornata mamma mia un altro big match contro il Pordenone di Di Carlo sesta giornata mamma mia ragazzi ancora un altro avversario molto temibile la Feral Pissarò di Stefano Vecchi settima giornata per Golettese Padova in quel di Crema ottava giornata Padova contro Virtus Verona nona giornata il derby del Paron al Nereo Rocco Triestina Padova decima giornata Padova contro Novara contro la neopromossa di Roberto Cevoli undicesima giornata Piacenza Padova trasferta complicata e insidiosa dodicesima Padova contro Arzignano quindi il derby tutto Veneto tredicesima Pro Sesto Padova la trasferta temibile quattordicesima giornata Padova contro Albino Leffe quindicesima giornata Padova contro Renate sedicesima giornata San Giuliano City contro Padova quindi la trasferta nell'iter milanese dicesettesima giornata Padova contro Trento diciottesima giornata Lecco contro Padova e quindi il Padova chiuderà in casa il giorno andata il prossimo 18 dicembre contro il Mantua chiuderà in trasferta il campionato il prossimo 23 aprile ragazzi questo è il sorteggio e la dea vendata ci ha messo di fronte ad un calendario molto temibile nelle prime giornate più facile verso la seconda parte ma all'inizio saranno subito scontri diretti per la formazione bianco scudata di Bruno Caneo l'11 settembre ragazzi all'Euganeo l'esordio stagionale vedrà opposto il Vicenza quindi non ci sarà il ritorno all'Euganeo per l'ex capitano Ronaldo Pompeo da Silva squalificato per le prime quattro giornate peccato peccato questo è il calendario quindi ragazzi io come vi ho già annunciato vi aspetto numerosi per quanto riguarda il video di questo nuovo acquisto di questa nuova giunta del DS Massimiliano Mirabelli perché ormai è ufficiale con il ricorso respinto con il ricorso che è stato respinto completamente questa mattina dal Consiglio di Stato il campo basso non ci sarà e quindi Michael Liguori è un nuovo giocatore della Padova Padova che esordirà domenica 4 settembre al Silvio Piola contro la Pro Vercelli vittoria bianco scudata lo scorso 2 aprile con la firma con il destro di Cosimo Chiricò che però questo anno non ci sarà ragazzi come sempre io vi ringrazio per l'attenzione lasciate tantissimi like al video iscrittevi come sempre al canale e subitemi anche su Facebook e Instagram noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre Forza Padova